aria e tela luna alleata dal sagittario vi aiuterà a mettere in atto un atteggiamento bilanciato e disponibile riuscirete a volgere le circostanze a vostro vantaggio sforzatevi di andare incontro ad un familiare anche se i vostri desideri nonostante gli sforzi non collimano toro col mercurio e marte suridenti in capricorno e soprattutto urano nel vostro cielo si prevede un giovedì pieno di fermenti, ottime idee, nuovi progetti, darete sfogo al vostro spirito d'iniziativa ma non esagerate per non trovarvi poi pieni di impegni. Gemelli per colpa della luna contraria oggi forse vi alzerete con il piede sbagliato poi però recupererete e andrete incontro alle soddisfazioni che cercate. Saturno vi farà scegliere la strada adatta per risolvere una questione di cuore senza bisogno di consigli. Cancro con mercurio opposto vi potrebbe accadere in famiglia o sul lavoro di essere messi sotto esame per degli errori di valutazione o per delle distrazioni. Dimenticate l'orgoglio, prendete il telefono o scrivete una lettera di scuse ad una persona a cui tenete. Leone a causa di urano stile in toro meglio non accettare tutte le incombenze e gli inviti che vi verranno proposti se non volete ritrovarvi sfiniti e sovraccarichi. Concentratevi, non fatevi abbagliare da vuoti desideri di potere o da seduzioni senza fondamenti pratici. Vergine, con la luna contraria e nel sagittario lavorerete sodo ma proverete un po' di delusione quando vi troverete ad essere ricompensati con una critica. Vi diverterete molto in famiglia e diventerete il centro dell'attenzione per la vostra capacità di coinvolgimento. Bilancia, deciderete di rimandare una delicata questione di lavoro e farete bene perché tra un po' di tempo le cose cambieranno decisamente a vostro favore. Grazie a Saturno vi troverete a sfruttare esperienze che in passato vi avevano messo a dura prova. Scorpione, avete tante idee che vi frullano per la testa ma prima di parlarne con qualcuno assicuratevi che sia sintonizzato sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Con l'ausilio di Mercurio in Capricorno avrete idee che vi renderanno particolarmente brillanti. Sagittario, considerando la luna quadrata giove in se stile al sole dovete prevedere una giornata di impegno costante ma anche con momenti piacevoli e divertenti. Un piccolo problema di un familiare vi farà mancare un evento organizzato con entusiasmo, abbiate pazienza. Capricorno, con Mercurio, Venere e Marte nel segno, una situazione imprevista vi consentirà di mettere a punto un programma interessante ed una nuova esperienza. Grazie a Mercurio congiunto la comunicativa sarà una carta vincente da giocare negli affari. Aquario, per merito del sole amico della luna oggi potreste vedere germogliare quei frutti che avete da tempo seminato. Energie positive spese in amore, riposo e un'alimentazione controllata vi permetteranno di armonizzare al meglio le vostre energie. Pesci con la luna in acquario quadrata giove nel segno rimandate un acquisto costoso che sarebbe bene vagliare con prudenza e oculatezza. Venere e Urano sono in se stile. In amore avrete delle sorprese che gratificheranno desideri maliziosi e intriganti.